Un saluto a tutti dallo staff di Jonathan e da Maurizio. Con questa nuova presentazione vogliamo mettervi al corrente della disponibilità di tutta una serie di nuovi prodotti. Si tratta di una tipologia di automodelli capaci di lasciarvi senza fiato. Abbiamo il piacere di presentarvi l'intera gamma di automodelli con marchio Arma, distribuiti e prodotti da Horizon Hobby. Si tratta di modelli davvero per tutti, compresi coloro che per la prima volta si affacciano a questo fantastico mondo. Infatti questi modelli vengono consegnati interamente assemblati, quindi pronti per essere pilotati. Si tratta di una categoria di modelli per un utilizzo a 360 gradi. In base alle vostre preferenze di modello e alle vostre necessità possono essere impiegati letteralmente su qualsiasi tipo di tracciato, dall'asfalto allo sterrato, su manti erbosi, fangosi e tanto altro. I materiali utilizzati, l'alluminio, l'acciaio e i materiali compositi, tutti combinati in un design molto accattivante. Chiaramente sono di primissima qualità proprio per garantire la massima resistenza, efficienza e quindi il massimo del divertimento. Nonostante lo sforzo nella ricerca della qualità dei materiali impiegati, questi modelli vengono proposti a un costo davvero molto accessibile. Quello che maggiormente impressiona sono le dimensioni dei pneumatici, così come le proporzioni dei singoli modelli, soprattutto l'immediata sensazione al tatto della qualità del prodotto stesso. Bellissime le finiture delle carrozzerie con delle colorazioni sgargianti che non faranno passare inosservati i vostri modelli. Sul nostro sito inoltre troverete tutta la relativa ricambistica per ogni singolo modello. Chiaramente divisa per ogni modello, addirittura con la compatibilità fra un modello e l'altro. Li troverete nella scheda del prodotto, nella voce ricambi e quindi ricambi disponibili. Inoltre, sempre nel nostro sito, nella scheda del prodotto, quindi nella voce accessori consigliati, troverete una serie di accessori che potranno aiutarvi a migliorare la gestione e la performance del modello stesso. In ogni confezione, a secondo del modello, troverete una serie di accessori con le mancabili istruzioni, pur se nella lingua inglese. Per avere maggiori informazioni potete visitare il nostro sito www.jonatan.it oppure contattarci direttamente. Bene, arrivati a questo punto non ci rimane che augurarvi buon divertimento. Vi aspetto alla prossima presentazione, un saluto da Maurizio, grazie e a presto!